ciao sono nicolò cavaliere e qui al dry sono bartender faccio questo lavoro da sempre ma qui ho trovato la dimensione ideale per potermi esprimere al meglio la cosa bella di questo lavoro è permettere alle persone di staccare la spina per un aperitivo un dopo cena un paio d'ore di leggerezza e spensieratezza dry è sempre stato nella mia top five di miglior posto dove poter bere un buon aperitivo a milano e fare della conversazione perché appunto la disposizione dei tavoli quindi lo sharing table permette tutto ciò e da cliente molto affezionato e avventore che ho adesso sono diventato parte integrante del team